ciao a tutti siamo qui insieme per parlare del nuovo kit di aromaterapia emozionale di doTERRA io sono elisabetta finalmente è arrivato questo kit che è stato presentato alla convention di settembre 2015 a salt lake city e che però è disponibile per il mercato europeo dal primo gennaio del 2016 lo aspettavamo in tanti e quindi ho pensato di preparare questo piccolo seminario per per conoscerlo meglio per capire quando e come lo possiamo utilizzare vi invito a prendere carta e penna perché può darsi che ci possano essere degli degli appunti da prendere vorrei partire da una piccola introduzione sugli oli essenziali e quindi vorrei partire da questa domanda siete pronti per uno stile di vita doTERRA uno stile di vita basato sul benessere e un suo benessere inteso in senso olistico cioè che riguarda tutta la nostra persona gli oli gli oli essenziali sono un dono importante un dono che ci è stato dato dalla natura da dio e dalle piante e che le piante sono state messe sulla terra per renderla bella per renderla profumata per darci l'ossigeno ma anche per tanto di più la prima cosa da fare è cercare di capire che cosa sono gli oli essenziali volevo introdurre un pochino perché può darsi che ci sia qualcuno che non li conosce non sa come funzionano e quindi prima di passare alla parte relativa alle emozioni ho pensato che poteva essere utile a spiegare un pochettino le basi di tutto questo dell'aromaterapia in generale gli oli essenziali sono composti aromatici che vengono dalle piante sono estratti a freddo sono estratti attraverso una pressione ed è un olio essenziale è il siero vitale della pianta quello che la mantiene vigorosa colorata profumata quello che le permette di svolgere tutte le sue funzioni le piante non hanno la possibilità di di curarsi in un altro modo quindi producono questi oli per difendersi dai parassiti per difendersi dal freddo dagli attacchi delle malattie che anche loro prendono tutto questo succede anche con noi gli oli essenziali ci aiutano e influenzano il nostro sistema immunitario gli oli essenziali sono potenti sono efficaci sono sicuri e non hanno effetti collaterali sicuramente sono anche economici perché se pensiamo che è vero ci può essere un piccolo investimento all'inizio ma poi li possiamo usare per tantissime cose una goccia di olio essenziale quando entra nel nostro corpo agisce veramente su tutto e quindi questo è è un aspetto molto importante io mi sento sicura quando li uso mi sento molto più sicura rispetto a quando uso medicinali sintetici anche perché se vi è mai capitato di quando è stato l'ultima volta che avete usato un prodotto sintetico avete avuto delle reazioni come vi siete sentiti avete mai avuto delle allergie messi a me è successo e e mi sono spaventata molto quindi mi sento mi sento molto più sicura quando quando utilizzo gli oli dicevamo che gli oli essenziali sono estratti dalle piante quali piante do terra viaggia in tutto il mondo per cercare le piante migliori quelle che crescono nelle condizioni naturali di clima e di piogge di aria di terra che gli permette di di crescere più vigorose e quindi di fornire un olio essenziale più efficace io vi invito ad andare su youtube o guardare sul sito anche sul mio blog per vedere per leggere per imparare un po le storie di che stanno dietro a ogni goccia di olio essenziale che noi usiamo di ogni goccia di olio essenziale di terra che noi usiamo perché c'è tanto di più che una goccina di olio c'è aiutare le persone c'è sostenere le economie dei popoli c'è dare delle speranze di vita e delle commesse di lavoro a qualcuno che non le avrebbe avute diversamente c'è dare speranza c'è aiuto per costruire scuole ospedali portare l'acqua nei villaggi dove ce n'è bisogno tutto questo fa parte dell'impatto sostenibile tutto questo fa parte della scelta profonda etica di non solamente fornire il prodotto migliore che c'è sul mercato ma anche di di fornirlo aiutando e creando un flusso che che aiuta anche i produttori che non vengono sfruttati ma che vengono sostenuti come funzionano gli oli essenziali gli essenziali possono essere utilizzati in modo aromatico quindi diffondendoli annusandoli possono essere applicati oppure possono essere anche ingeriti non tutti gli oli essenziali possono essere ingeriti ma quelli di due terra praticamente tutti tranne alcuni che hanno questa indicazione comunque lo sappiamo nel caso in cui ci troviamo ad avere a che fare con questi oli gli oli hanno la capacità di penetrare la membrana cellulare e quindi di agire su tutto il nostro corpo questo succede perché quando noi lo applichiamo ad esempio sotto i piedi sotto i piedi è non siamo sicuri li va bene perché la nostra pelle diversa e più ai pori più larghi quindi quello che applichiamo lì entra in circolo velocissimamente in 20 30 secondi e poi gli oli sono sistemici quindi quando entrano dentro di noi cominciano a circolare nel nostro corpo e quando trovano un punto del nostro corpo che ha bisogno loro si fermano svolgono la loro funzione e poi vanno avanti e questo lo fanno attraverso le cellule le cellule parlano tra di loro sono come dei dei piccoli telefoni dei piccoli microfoni che si che si comunicano tra tutti i tessuti tutti gli organi quello che abbiamo bisogno ecco l'olio fa così perché in una goccina di olio ci sono infiniti componenti quando noi compriamo una medicina c'è un principio attivo e tanto altro e negli oli essenziali invece ci sono infiniti principi attivi ed è questa è la ragione per cui lo stesso olio può servire a tante cose oppure possiamo usare diversi oli per curare lo stesso disturbo e facendo questo entrando e circolando in tutto il nostro corpo arrivano anche alla parte che presiede alle emozioni qual è il modo migliore qual è il modo migliore per utilizzare gli oli il mondo migliore è avere avere a disposizione diversi e creare delle routine utilizzarli ogni giorno cambiarli provare diversi oli per diverse cose giocarci divertirsi anche un po un modo molto semplice per esempio quello di assumere degli integratori sono degli integratori per esempio questi di do terra che sono eccezionali secondo me sono tre tipi insieme si chiamano long life vitality e lavorano sia per il rinnovo cellulare per gli antiossidanti che dandoci i nutrienti le vitamine sali minerali di cui abbiamo bisogno sono già dosati ed è un modo molto semplice per sostenere il nostro benessere quotidianamente e considerando anche che nonostante tutti noi cerchiamo almeno la maggior parte di noi cerchi di avere una dieta equilibrata di mangiare cose fresche eccetera però è molto difficile che davvero riusciamo ad avere tutto nelle quantità di cui abbiamo bisogno da quando li uso io sono molto meno stanca non mi ammalo facilmente mi sento più serena possiamo usare gli oli per per la pelle per rinforzare il sistema immunitario per l'intestino non dobbiamo usare sempre gli stessi li possiamo cambiare ad esempio in inverno magari usiamo quelli che ci sostengono contro le malattie di raffreddamento nelle mezze stagioni possiamo usare quelli che magari ci aiutano a depurarci possiamo mettere una goccia di limone al mattino per purificare internamente possiamo aggiungere ad esempio frankincense nella crema viso per aiutare per nutrire la pelle e così via questo lo possiamo fare tutti i giorni ora io vi chiedo cosa state facendo tutti i giorni che rafforza sistema immunitario che ci mantiene sani che che ci aiuta che ci rinforza nonostante tutto quello che tocchiamo nonostante l'aria che respiriamo e su cui non abbiamo controllo cosa diamo ai bambini alla mattina alla sera per proteggerli e quando noi lo facciamo così quando iniziamo a veramente introdurli nella nostra vita quando gli diamo la possibilità di agire su di noi ci rendiamo conto che non agiscono solo sul nostro fisico ma agistono anche sulle nostre emozioni questo succede per una ragione semplice in realtà ed è che quando gli oli entrano e creano l'equilibrio nel nostro corpo allora anche la nostra emotività cambia le energie cambiano e le emozioni negative non trovano più posto vengono buttate fuori e vengono sostituite da quelle positive è chiaro che noi dobbiamo essere pronti dobbiamo avere il desiderio di fare questo percorso su di noi e ma chi non ha il desiderio di stare bene e in un libro spiega che è un libro che si chiama sensato e land emotions che consiglio a tutti di leggere spiega che è un po usare gli oli è un po come lavorare in giardino noi siamo il giardino e quando cerchiamo quando siamo davvero fuori cerchiamo di togliere le erbacce dal nostro giardino alle volte è difficile se la terra è molto secca quello che possiamo fare è di innaffiare ammorbidire la terra e questo ci aiuterà a togliere le erbacce ecco gli oli essenziali fanno questo loro ammorbidiscono il terreno su cui noi dobbiamo lavorare e questo rende tutto molto più più semplice e molto più piacevole perché tutti noi ogni giorno abbiamo tantissime emozioni diverse che si sosseguono che dipendono dalle cose che viviamo le cose che ci dicono quello che vediamo quello che sentiamo il modo in cui noi ci sentiamo influenza le nostre decisioni il nostro umore influenza le nostre decisioni quindi abbiamo dei neurotrasmettitori che si chiamano dopamina serotonina e loro influenzano il modo in cui siamo allora siamo qui questa sera per imparare che noi possiamo fare qualcosa perché questi neurotrasmettitori svolgano bene la nostra la loro funzione e questo è possibile attraverso tutti gli oli essenziali non soltanto quelli contenuti in questo kit ma questo kit è un buon inizio perché è un modo rivoluzionario di organizzare la roma terapia emozionale e che ci aiuta ci aiuta a capire attraverso dei target specifici come possiamo utilizzare gli oli essenziali per questo è un kit che contiene 6 miscele come vedete da questa ruota e questa la trovate nella confezione fa parte all'interno della confezione del kit emotional aromatherapy e vedete che gli oli essenziali qui sono stati divisi in famiglie ogni famiglia ha una caratteristica principale preponderante rispetto alle altre non l'unica in qualche modo alcuni si sovrappongono anche ma ce n'è sempre una che brilla sulle altre no ad esempio tutti gli agrumi sautro e sautro ci ci edificano ci rivitalizzano avete presente quando apriamo un arancio e ci escono le goccine sentiamo questo questo profumo frizzante no questo è lo scopo principale del degli oli essenziali di agrumi le spezie sono intriganti sono affascinanti le erbe ci danno conforto ci danno sollievo gli alberi ci danno stabilità ci danno equilibrio i fiori ci rassicurano ci calmano le mente tutte le erbe aromatiche hanno un effetto calmante ma anche molto energizzante ecco e vedete che qui all'interno delle famiglie di oli nel cerchio all'interno ci sono diverse emozioni quindi noi possiamo leggere ovviamente non sono tutte ma si avvicinano no ci possiamo riconoscere molte di queste e questo ci aiuta a capire da che parte noi ci dobbiamo dirigere quale tipo di olio dobbiamo scegliere per il modo in cui ci sentiamo in quel momento le miscele di questo chiete si trovano a cavallo tra due famiglie di oli e questo per soddisfare determinati bisogni e appunto per dirigersi verso un target specifico di determinate emozioni una cosa un'altra cosa che mi piace di dutera tra le tante anche che quando c'è una necessità loro si mettono al lavoro e cercano di aiutare e di rispondere a questo bisogno era stato espresso l'idea che poteva essere bello avere un kit di aromaterapia emozionale e ci è stato regalato vediamo quali sono gli oli all'interno del kit la prima miscela si chiama motivate è una miscela che ha un aroma dolce ma fresco agrumato ed è una miscela a base di agrumi e di mente di aromatiche vedete gli ingredienti e ci aiuta ad avere più fiducia in noi stessi ci aiuta tutte le volte che ci sentiamo scoraggiati tutte le volte che abbiamo bisogno di sentire un po il fuoco per fare qualcosa ci dà ci sostiene nella nostra creatività e ci dà la forza di andare avanti quando stiamo affrontando quando ci troviamo in mezzo delle difficoltà delle sfide e ci aiuta quando abbiamo veramente perso la motivazione per fare qualcosa che invece magari dobbiamo continuare a fare nella nostra vita ad esempio assistere qualcuno che sta male o mantenere un lavoro portare a termine un impegno ci può aiutare a riscoprire il motivo per cui noi stavamo facendo questa cosa per cui l'abbiamo scelto e ci può incoraggiare ad andare avanti a spingerci all'azione invece di rimanere così paralizzati in questo sentimento di scoraggiamento di depressione di così di non voglia semplicemente di andare avanti ci dà la voglia e il coraggio di rimborcarci le maniche e di affrontare un nuovo giorno la seconda miscela di cui vorrei parlare si chiama cheer cheer è diretto a tutte le persone che hanno bisogno di allegria contrasta la tristezza contrasta lo scoraggiamento ci aiuta in tutti i casi in cui sentiamo di avere un peso sul cuore sentiamo che siamo molto appesantiti dalla nostra vita da tutte le prove che abbiamo avuto e magari non ci aspettiamo che niente di bello possa succederci ecco allora possiamo usare cheer per ritrovare la speranza possiamo usarlo quando sentiamo di avere superato il limite possiamo usarlo quando abbiamo bisogno di sentire che le cose andranno meglio ci aiuta proprio a capire che ok ci sono stati problemi ci saranno ancora ma nella vita c'è molto di più di questo e noi lo possiamo trovare perché è lì che ci aspetta ci aiuta a ritrovare la gioia e la speranza che possiamo avere perduti forgive forgive è una miscela che ci aiuta a rinnovare è una miscela di erbe e di alberi e ci aiuta quando abbiamo bisogno di perdonare noi stessi e gli altri ci aiuta a capire che gli errori, le offese, gli sbagli ci sono stati li abbiamo fatti noi, li hanno fatti gli altri, li abbiamo dati, li abbiamo ricevuti ma che devono essere accolti con il perdono, con la gentilezza soprattutto con la comprensione che siamo tutti in cammino che stiamo imparando che stiamo facendo del nostro meglio, quasi tutti e che siamo tutti esseri umani e che quando camminiamo si può cadere ma l'importante è rialzarsi e andare avanti quindi è molto importante anche riuscire a perdonare se stessi ed è importante capire che gli altri stanno facendo il nostro cammino e quindi ci aiuta a lasciare andare qualcuno ha detto che il perdono ci rende liberi e questo è vero questo ci aiuta, questa miscela ci aiuta quando quando ci sentiamo cinici quando vediamo il peggio negli altri ci aiuta a capire che lasciare andare, perdonare aiuta noi ad andare avanti ad essere liberi da tutto questo chi non ha bisogno di perdono un'altra miscela molto importante un sentimento che tutti affrontiamo nella vita è quello della perdita questa miscela si chiama console ha come scopo principale quello di appunto consolare e di confortare ci aiuta quando abbiamo perso qualcosa di importante una persona o qualche cosa che era importante per noi quando siamo in una situazione di grande stress quando abbiamo ricevuto un trauma ci aiuta ad alleviare questo dolore ci aiuta nel nostro percorso di risalita ci aiuta ad andare avanti ci aiuta quando abbiamo ansia quando abbiamo paura ci aiuta a fare i primi passi ci aiuta a cercare la pace che viene da sopra di noi la sorgente vera della pace che viene dal cielo che viene da Dio per chi ci crede che ci dà che ci dà l'amore e il conforto ci dà quell'abbraccio di cui sentiamo di aver bisogno delle volte ci porta la serenità nel cuore e nella mente e ci guida verso delle emozioni positive e verso la pace pace è il nome della prossima miscela ed è rivolto a tutti i momenti in cui sentiamo di non avere la pace dentro a volte abbiamo paura a volte siamo ansiosi e questo ci porta ad avere controllo nelle relazioni sugli altri sull'ambiente che ci circonda sull'organizzazione della nostra vita il controllo è un modo illusorio per sentire pace ci dà l'illusione di sicurezza magari di un senso di ordine però non è la pace vera e quindi questa miscela ci ci incoraggia a cercare la sorgente profonda della pace quella che quella che non cambia quello che non va via quella che quella che ci dà la bontà e la grazia quello che ci fa capire che non sono gli sforzi e non sono il controllo che riempiono la nostra anima ma è l'amore che viene che viene da Dio e che viene dal divino e che e che ci porta ad amare noi stessi e e anche a lasciare andare a lasciare a lasciare lo spazio perché questo possa fluire dentro di noi e questo contiene è un blend che contiene fiori e che contiene mente ed entrambi hanno la caratteristica di avere questo effetto calmante su di noi passion è una miscela che che a me piace molto come aroma come profumazione contiene erbe e contiene spezie e e ci aiuta quando dobbiamo ritrovare la passione per qualcosa o la dobbiamo trovare per la prima volta ci aiuta quando magari siamo presi in in una routine in cui c'è solamente lavoro ci sono obblighi e che dobbiamo portare avanti e magari abbiamo perso un po' la gioia di fare tutto questo e allora passion ci aiuta ad essere giocosi ad essere spontanei ci aiuta ad ascoltare ad ascoltarci a seguire la nostra creatività le nostre passioni i nostri sogni anche quando questo vuol dire affrontare magari qualche cosa che ci fa paura e ci aiuta ad andare oltre i limiti che noi stessi ci siamo dati e e ci aiuta proprio a ritrovare a ritrovare i nostri sogni a riconnetterci con la creatività ritrovare la meraviglia per quello che vediamo quello che incontriamo ogni giorno ecco queste sono le sei miscele che compongono questo kit alla fine di questa breve carrellata vi volevo chiedere come è stata la vostra giornata come sarebbe stata se fosse stati più felici più ottimisti più sicuri come sarebbe stato come sarebbe stata la nostra vita se ci fossimo sentiti sempre così pensiamo a quei giorni in cui ci sentiamo bene e lo sappiamo quando stiamo bene perché ci alziamo e sentiamo che sentiamo che possiamo conquistare il mondo veramente no? ma invece pensiamo agli altri giorni gli altri giorni in cui non era la giornata giusta in cui ci sentivamo ci sentivamo giù ci sentivamo insicuri abbiamo reagito male magari non non abbiamo avuto il coraggio di fare qualche cosa che invece era importante per noi le volte in cui abbiamo perso un'occasione ecco questa cosa può essere cambiata possiamo sentirci tutti i giorni in grado di conquistare il mondo possiamo fare un lavoro su noi stessi possiamo ricevere aiuto dall'aromaterapia possiamo avere il controllo attraverso gli oli essenziali non solo del nostro fisico e del nostro corpo e della nostra salute ma anche delle nostre emozioni possiamo possiamo usare questi oli in due modi possiamo applicarli in modo topico possiamo inalarli e li possiamo usare in ogni momento in cui abbiamo bisogno possiamo scegliere quello che abbiamo bisogno possiamo guardare la confezione sulla scala guardiamo la ruota guardiamo forse adesso voglio provare con soul adesso sento di avere bisogno di queste cose oppure una nuova giornata o una cosa importante da affrontare motivate me può mi può essere d'aiuto noi dobbiamo fare la nostra parte ma possiamo farla in un modo molto più piacevole vi ringrazio a presto di avere bisogno